Salve amici del Centro Meteo Italiano, dopo l'ennesima fase di maltempo ecco che diversi modelli propongono un cambio per la metà di ottobre. Maltempo intenso sull'Italia nelle prossime ore con piogge temporali e anche locali nubi fraggi, specie al nord e sui settori centrali tirrenici. Seconda parte della settimana con vasta circolazione depressionale sull'Europa settentrionale, la quale spingerà correnti umide con nuvole e piogge soprattutto per le regioni del nord Italia. Con l'arrivo del secondo weekend di ottobre diversi modelli confermano un miglioramento del tempo grazie all'elevazione di un promontorio anticiclonico. Alta pressione che intorno alla metà del mese potrebbe ulteriormente rafforzarsi, portando anche le temperature di qualche grado al di sopra delle medie. Trattandosi però di tendenze seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.